Ciao ragazzi, ciao ragazze, top! Benvenuti in un nuovo vlog! Ciao! Come state? Tutto bene? Noi tutto bene! Siamo a Roma, come ben sapete! Questo è un vlog flash per dirvi che sto facendo un po' di video e perché vi dico ciao e perché vi voglio dire che questo è un vlog flash! Potrei fare la soprana? Lo so! Ciao!